Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104.5 FM Let's begin Passiamo ad una scena di uno spot fatto da due voci Ed è la scena che si confà con il grande Michelangelo Ascoltatori? Grande personaggio La scena che sta per riproporre Michelangelo ha una certa età No, purello Ma non è vero E infatti è più di là che di qua È un pischello dai Ecco Come si dice in Roma E infatti sentiamo cosa? Intanto saluta, buonanotte Michelangelo Allora, buonanotte Michelangelo Buonanotte Buonanotte Sto bene? Mi fai il tuo tormentone? Quello originale è questo Ti facciamo sentire Quello Quello preso dal film Quello famoso Io l'ho conosciuto così Ancora prima di conoscerlo Chi c'è? È lui Cioè il film è Troisi Benigni Te lo faccio risentire Aspetta, concentra Sentiamo Chi c'è? Fanno poi C'hai stordito tutto Grazie A parte che non è solo Eh Ma è anche chi siete Quindi non lo fai tutto Non è niente Ti facciamo sentire l'originale Dai Eh Chi siete? Eh Chi siete? E che gli è scatto al palzetto Che fai così Guardano Che non c'entra niente Eh Ti facciamo sentire lo spot Che devi ridoppiare Che tra l'altro ti riguarda Dai Si parla di Si parla Si parla di Si parla di Si parla di Algasip Sentiamo Attenzione Che è? Muda? È muta È muta Sì E già Hai già da doppiare Ma tu hai il testo? Ecco Eh dai Che stai aspettando Mi vedo niente Come non vedo niente Io ho tutto È falo Ma come Ci sono altri monitor Michelangelo Sposta il microfono Scusate Ti faccio mettere così Al contrario Ma scusa Il random pub Ha un maxischermo di tre mesi Scusa Paolo Roberto È aperto il microfono Ah hai ragione Pardon Lo levo e lo alzo Basta mettere l'asta davanti Alle due metri per otto Di maxischermo Magari Michelangelo lo guarda Io sono per le soluzioni Quelle semplici Capito? Vabbè Giriamoci E risolviamo così Ci siamo Michelangelo Con Francesca Devono ridoppiare La scena Della Dell'Algasip Praticamente si parla di tentiere No? Giusto? Sì Allora sentiamo come Adesso È la voce la vostra Non c'è originale Direttamente quella La vostra Ecco La vera originale Siete voi Appena guardate lo spot Noi siamo ad ascoltarlo E voi siete la voce Quindi sentiamo Come se la cavano Eh dai Parte la scena Noi la guardiamo Attenzione Sono curiosa Mi raccomando Proprio a tempo A livello Balla Mi irrita le gengive E non so più che cosa fare Prova Algasip Algasip È un morbido Cuscinetto adesivo Che aiuta A prevenire le irritazioni Perché elimina Ogni attrito Con le gengive Algasip Dentiera ferma E gengive protette Però Posso oppormi un po' A questa Ma la prodite Ma la prodite Io mi oppongo Voglio Voglio che me la fai Come mi hai fatto prima Lo sdentato Famelo Ci sei capace Ma deve essere Allo stile Teatro allo scalo Ma che figura Gli facciamo fare A Sandro Torella Fatelo più convinti Dai Insomma parte la scena Ascoltatori Algasip Si parla di dentiere Non sopporto la dentiera Balla Mi irrita le gengive E non so più che cosa fare Prova Algasip È un morbido Cuscinetto adesivo Che aiuta a prevenire Le irritazioni Perché elimina Un attrito con le gengive Algasip Dentiera ferma E gengive protette